ciao amici di Wismag Italia sono Gianluca Villa come sempre oggi vado a presentarvi un'altra moto un altro test una delle moto più avieneristiche per quanto riguarda il mondo delle due ruote anzi oserei dire delle tre ruote Yamaha ha presentato la Niken che deriva dalla parola giapponese Niken quindi due spade come l'avantreno di questa moto che presenta davanti una doppia forcella quindi due ruote sostanzialmente è un concetto per facilitare l'utilizzo della moto da affrontare particolari condizioni ovvero il pavè cittadino i binari dove ad oggi la soluzione unica e rappresentata da scooter che siano a tre o a quattro ruote il concetto è sì di moto ma è sempre un trike perché è un trike rovesciato questo quello che definisce il vocabolario per un triciclo la moto deriva in gran parte da una piattaforma già conosciuta che è quella della Tracer 900 il motore quindi lo conosciamo è il tre cilindri cross plane di Yamaha che sviluppa 115 cavalli a 10.000 giri stavolta deve tirare un peso di 269 chili che non sono pochi infatti i consumi ne risentono noi andando abbastanza allegri con una moto divertente abbiamo ottenuto una media di 5,8 litri ogni 100 chilometri il serbatoio è più capiente perché tiene ben 18 litri e come potete vedere mastodontica davanti è veramente imponente tant'è che il filo delle borse coincide con le due gobbe che si trovano ai lati della carenatura in realtà è una moto non è proprio uno scooter la posizione più alta rispetto a una Tracer il gusto è più eretto l'avantreno è più presente e soprattutto più vicino il cruscotto a lcd retro illuminati questo vi permette comunque di tenere sotto controllo tutto tant'è che avete la dotazione completa dal cruise control drive mode di motore l'evoluzione è sul posteriore una gomma posteriore da 190 barra 55 quindi da super sportiva r1 mentre all'avantreno abbiamo sempre un 120 70 ma stavolta è doppio e su ruote da 15 pollici la forcella non è regolabile mentre al posteriore troviamo per facilitare il setup la manopola di accesso remoto tornando quindi sul discorso di quello che è la prestazione di questa moto nonostante il peso l'avantreno vi permette di muovervi tranquillamente anche nel misto in maniera molto agile anteriore avendo due ruote vi permette di essere molto incisivo e molto bene appoggiato attenzione al peso perché non vuol dire avere una moto super sportiva succederà che avrete delle derive o dello sliding detto in inglese sull'anteriore dovrete abituarvi se tentate di entrare molto forte in curva il contro è sul posteriore avendo un solo appoggio deve gestire una aderenza inferiore quindi tenderà molto a perdere contatto l'elettronica della nikken gt è un'elettronica di entry level quindi tutti i comportamenti sono non preventivi ma sono successivi all'evento per cui la perdita di aderenza al posteriore verrà gestita semplicemente con un taglio di corrente dando degli scossoni che a me non sono piaciuti molto su una moto così avveneristica da parte di yamaha e mi sarei aspettato anche un'elettronica al passo della diciamo dell'idea proprio per gestire tutta questa voglia di andare forte soprattutto in curva sul rettilineo è una moto normalissima molto stabile anche se si prendono buche differenziate perché il meccanismo di gestione dell'avantreno permette di distribuire molto bene le buche le asperità al contrario di un trike che avendo l'asse posteriore rigido trasmette sull'avantreno tutte le asperità anche prese con una sola gomma e quindi impegna di più la guida l'avancorsa solo di 20 gradi produce un interasse di 1510 quindi la moto nonostante sembra enorme è abbastanza ravvicinata per la mole e questo si traduce in un'agilità nel misto stretto nonostante pesi e proporzioni lo scarico basso è tipico è sempre il vantaggio perché permette di avere un carico e non soprattutto di non impuzzolentire il secondo e le valigie vabbè sono le valigie classiche morbide che vengono date dai yamaha secondo me sempre un po piccole per quello che potrebbe essere il vano di carico e si richiederà su un portapacchi già esistente di inserire un baoletto altra cosa il parabrezza più grande vi permette di avere una buona protezione anche se alle alte velocità comunque dietro a altri veicoli un po di turbolenza si sente ancora i freni sono ottimi l'avantreno si stanca però a lungo andare soprattutto nelle discese perché la massa abbinata a dei tubi non ancora in treccia ma i classici tubi in gomma a lungo andare produce fading mentre il posteriore il freno è ben presente e il tentativo di bloccare è abbastanza frequente frizione antisaltellamento quindi scalate a non finire senza problemi perché tanto vengono gestite dal motore il muso molto imponente fari a led anche belle le frecce all'interno degli specchietti che si ripiegano in avanti e anche il posteriore a led concludono una linea molto avveneristica mio modo di vedere molto particolare come tutte le moto o piace o non piace la seduta comoda anche in due si sta belli comodi si viaggia tranquillamente le manopole riscaldate di serie quindi un pacchetto completo tutto questo ad un prezzo 15.990 euro la disponibilità di colori è questo phantom blu che è il blu opaco e poi c'è il nimbus gray che è quello che abbiamo già visto nella prova dell'attressa 900 gt di quest'anno che è quel grigio lucido bene amici spero che la prova vi sia piaciuta noi abbiamo portato yamaha sulle colline brianzole come al solito siamo arrivati fin sopra lago di lugano balcone di sigignola a 1300 metri e questo ci ha permesso di testare soprattutto la nikken su una questione di curve strette poi autunno tante foglie tanto viscido tanto bagnato e noi non abbiamo mai avuto problemi quando il retrotreno ha perso aderenza è stato gestito tranquillamente dall'elettronica noi ringraziamo hgc perché grazie all'rph 90 abbiamo viaggiato in modo comodo ringraziamo alpinestar e chedra che ci hanno dato anche loro il supporto per quanto riguarda il vestiario e quindi le protezioni nonché forma boots per gli stivali che ci hanno sempre seguito nelle turistiche di quest'anno io vi ringrazio vi invito a iscrivervi al canale e mi raccomando in moto sempre con prudenza per colpa degli altri e tanto divertimento